Gianfranco Lopane, candidato per il Consiglio regionale pugliese con la lista con Emiliano a sostegno ovviamente del governatore uscente Emiliano. Allora, Ingegner Lopane, già sindaco di La Terza, perché sostiene la candidatura di Emiliano ovviamente schierandosi in una delle sue liste? Beh, intanto perché il mio campo politico è sempre stato quello del centrosinistra, da quando ho cominciato a militare nel partito, nelle associazioni studentesche, quindi mi sento a tutti gli effetti un rappresentante di una sinistra che cerca e trova nuove formule per la modernità. Poi con Michele Emiliano un rapporto decennale, da quando lui mi ha scovato fra l'altro dopo aver partecipato alle primarie di dieci anni fa per diventare sindaco, con un risultato straordinario. Lui ha creduto in me, in questi dieci anni ci siamo sempre confrontati, anche schiettamente, anche partendo da posizioni diverse, ma credo che il confronto, l'apertura e il dialogo che ho avuto con lui in questi anni sia stato importante e potrà ancora essere importante nel prossimo futuro. Quindi una grande amicizia, ma soprattutto un'appartenenza politica ad un campo del centrosinistra che ha bisogno di nuove prospettive.